Una buona giornata e un cordiale saluto da Nicola Giannattasio per Florence TV Torna la nostra rassegna stampa culturale dedicata agli eventi dell'ultima settimana Cominciamo dagli argomenti trattati dai principali quotidiani nella giornata di venerdì 21 febbraio cominciando da quello che è stato l'argomento principale ovvero il rientro alla Galleria dell'Accademia di Cecil Holberg Notizia che troviamo su tutti i quotidiani, a cominciare dalla Repubblica di Firenze Accademia riinizia l'era Holberg, il ritorno della direttrice tedesca alla guida della Galleria annunciato dal ministro dei beni culturali Dario Franceschini E poi il corriere fiorentino, Accademia c'è la nomina di Holberg, Palazzo Vecchio, avanti insieme La direttrice torna in sella nel giorno in cui i dipendenti protestano per gli impianti spenti L'articolo affirma di Edoardo Semmola, dopo sei mesi dalla perdita dell'autonomia del Museo del David il cambio di governo, l'interim di Eike Schmidt alla guida della Galleria e tre settimane di vacazio amministrativa da quando il ministro Franceschini ha restituito la titolarità di museo autonomo all'Accademia Cecil Holberg è tornata in sella nel suo ufficio di via Ricasoli La nazione di Firenze, Accademia torna a Cecil Dipendenti in agitazione, firmato ieri il reintegro della Holberg l'Assemblea dei lavoratori preoccupata per le condizioni di salute e sicurezza all'interno della Galleria L'altro argomento trattato dai quotidiani La mostra di Saraceno Riflettere sul mondo la visione di Saraceno Vi porto in un'altra era Domani apre aria la mostra dell'artista argentino Tra piante, ragnatele, polvere e connessioni neurali Questa è la Repubblica di Firenze Per quanto riguarda il Corriere Fiorentino In una nuova era con Saraceno A Palazzo Strozzi La mostra dell'artista invita ad una diversa ecologia di comportamenti Sabato 22 febbraio sono tre i argomenti principali Trattati dai quotidiani La Repubblica Firenze Festival delle scoperte Inno al sapere dal 20 al 22 marzo Si intitola Festival delle scoperte Ma potrebbe intitolarsi Festival della curiosità Dell'entusiasmo e del desiderio di conoscenza Perché tre giorni che si terranno a Firenze Il mese prossimo dal 20 al 22 marzo In vari luoghi della città Sono fondamentalmente un inno al sapere In tutte le sue infinite declinazioni Il Corriere Fiorentino titola Che scoperte? Un festival per le idee L'evento dal 20 al 22 marzo Tre giorni per capire da cosa trae origine la conoscenza A Firenze decine di posti coinvolti Da Santa Croce a centri yoga e ristoranti Con Sandra Savaglio Il rettore Luigi Dei Marco Malvaldi E la banda Osiris Repubblica dà anche spazio Alla presentazione del festival di Muse Art Ritorni e viaggi Il talento di Muse Art Si mette in piazza Dal 15 al 28 luglio Gli eventi in Santissima Annunziata Da Goran Bregovic a Roberto Bolle Da Paul Weller a Fiorella Mannoia Al via le prevendite E poi ci spostiamo nel territorio metropolitano Con il Tirreno di Empoli Riqualificazione del Borgo Fucecchio Sfida San Miniato Centro Alto 25 progetti di rilancio Spinelli presenta la mostra degli elaborati Di aspiranti architetti E fissa l'obiettivo Anche noi possiamo diventare attrattivi per i turisti Partiamo da queste idee Domenica 23 febbraio Firenze sale la ribalta nazionale Sul Corriere della Sera e sulla stampa Per il premio Rinascimento Più Sul Corriere oggi a Palazzo Vecchio Mecenati e collezionisti Premiati a Firenze con Rinascimento Più Nasce un riconoscimento internazionale Che il Museo Novecento In collaborazione con Muse Consegna alle personalità del collezionismo Del mecenatismo Stesso argomento appunto sulla stampa A Firenze nasce il premio Rinascimento Più Saranno consegnati oggi a Palazzo Vecchio I premi della prima edizione Cambiando argomento La Repubblica parla di cinema Saranno registi Corso di cinema per studenti e prof All'Istituto Marco Polo Una scuola popolare aperta a tutti Dedicata all'arte del film Fotografia, montaggio, recitazione L'idea è nata grazie al documentario Che Duccio Chiarini ha girato nelle aule Coinvolgendo sia ragazzi che insegnanti E poi sul Corriere Fiorentino Sacchi renderà pubblici i disegni dei Levi L'assessore si impegna a esporre le opere ritrovate Della donna vittima dei nazisti O in un luogo comunale O se il rabbino di Firenze è d'accordo Nella sinagoga Ipotizzando magari una forma di prestito Queste le parole dell'assessore del Comune di Firenze La settimana si è aperta Lunedì 24 febbraio Con il riferimento proprio Alla premiazione del Rinascimento Più Trattato dalla Nazione di Firenze Rinascimento Più Un premio ai mecenati L'amore per l'arte Un premio ai collezionisti di oggi La magnificenza del passato E la vitalità del presente Questo si legge nell'articolo Firma di Olga Mugnaini Firenze è la capitale del rinascimento E da sempre la custode dei tesori Dei suoi grandi artisti E ciò anche grazie a una tradizione Di mecenati sensibili e lungimiranti E poi si prosegue appunto Parlando della premiazione avvenuta In Palazzo Vecchio La Nazione riprende La mostra dell'artista Thomas Saraseno Il futuro del mondo In una ragnatela A Firenze La crisi ecologica planetaria Nello sguardo visionario Dell'artista sudamericano Il progetto Siamo nella sesta estinzione di massa Ma è possibile immaginare Un'era diversa Ci spostiamo poi a Vinci Con la Nazione di Empoli In viaggio dentro ai disegni di Leonardo Ieri l'inaugurazione Della mostra al Museo di Vinci La tecnologia favorisce L'esplorazione delle opere L'esposizione Leonardo Anatomia dei disegni È un viaggio virtuale In cinque dei più famosi disegni Di Leonardo Passiamo alle notizie Di martedì 25 febbraio Si parla di maggio Sulla Repubblica di Firenze Il teatro Maggio Chiuso per lavori Dall'estate 2021 Per otto mesi Il comune dona una villa L'articolo è di Ilaria Ciuti Le date erano nell'aria Adesso sono certe Lo ha annunciato ieri In consiglio comunale L'assessore Alla cultura Tommaso Sacchi Il teatro del maggio Chiuderà Da luglio-agosto 2021 A fine marzo 2022 Bisogna quindi trovare Una nuova casa Perlomeno per l'opera La sinfonica Spiega ancora l'assessore Potrà farsi nel nuovo auditorium Che per quell'epoca Dovrebbe essere finito Poi ci sono diverse soluzioni Una La ipotizza il Corriere Fiorentino Palazzo Vecchio Il maggio alla Pergola Aspettiamo il calendario Il maggio cerca ancora casa Per mettere in scena Le sue opere Tra luglio 2021 Marzo 2022 E si fa appunto Il nome del teatro Della Pergola Però ancora Nessuna certezza Ampio spazio Su tutti i quotidiani Con ribalta Anche nazionale Per quanto riguarda La mostra Che si terrà A Roma Di Raffaello Corriere Fiorentino Raffaello a Roma Con gli uffizi In prima linea Da Firenze 50 opere Per la grande mostra Alle scuderie Del Quirinale Che si svolgerà Dal 5 marzo Al 2 giugno Si tratta Della più grande mostra Mai realizzata Per i 500 anni Della morte Di Raffaello La Repubblica Tratta l'argomento Sia nella sua pagina Di cultura nazionale Sia nella edizione Fiorentina Nell'edizione nazionale Si sottolinea Come siano Già 70.000 I biglietti prenotati 204 Le opere Provenienti Da tutto il mondo L'evento È in stretta Collaborazione scientifica Con gli uffizi Nella pagina interna Da Firenze A Roma Con Raffaello Grande attesa Per la mostra Alle scuderie del Quirinale Dagli uffizi Sono partite Una cinquantina Di opere Ci spostiamo poi Con la nazione Di Empoli A Vinci Le installazioni Multimediali Diventano parte Del museo Erano state Allestite Nell'ambito La mostra Alle origini Del genio E ora Saranno Permanenti Quindi I pezzi forti Della mostra Che fu inaugurata Dal presidente Mattarella Resteranno Nel museo Leonardiano Di Vinci Quindi Un'importante Novità Che riguarda Uno degli musei Agli uffizi Firenze Il comitato scientifico Lascia e critica Il direttore L'argomento Anche sul corriere Fiorentino Raffaello Della discordia E scontro Agli uffizi Il caso Si dimette Il comitato scientifico Per il prestito A Roma Del leone decimo Opera Inamovibile Inutile Il nostro lavoro Schmidt Attacco strumentale Poi il dettaglio Con un retroscena Cinque mesi Di dissidi Cominciati Col duello Sul disegno Di Leonardo La lista Delle 23 opere Da non muovere Le clausole E gli aggiornamenti La Repubblica Sempre sulla sua pagina Nazionale Il leone decimo Di Raffaello In prestito A Roma Fa litigare Gli uffizi Per la mostra Alle scuderie Del Quirinale La nazione Di Firenze I quadri Di Raffaello Emigrano a Roma Terremoto Agli uffizi Il comitato scientifico Si dimette in blocco Per i prestiti Alle scuderie Che non erano Stati concordati Prima Raffaello Spacca In due Gli uffizi Il quadro Di Leone decimo A Roma Si dimette Il comitato scientifico Che aveva vietato Il suo trasporto E poi anche qui C'è la lista Delle 23 opere Intoccabile E qui troviamo Un'intervista All'ex direttore Antonio Natali Che Già dal 2006 Negò La partenza Dell'annunciazione Di Leonardo Da Vinci Per il Giappone Come detto Ribalta nazionale Su molti quotidiani Per questo argomento Ne parla anche Il messaggero Uffizi Lo sfregio Sul Raffaello Per le scuderie Il comitato scientifico Del museo Si dimette Per protesta Contro il prestito Già avvenuto Del ritratto Di Leone decimo Il direttore Schmidt È giusto Che l'opera Già esposta Tre anni fa A Roma Torni Per la mostra Evento Al Quirinale Il fatto quotidiano Mai Il Leone a Roma Allo strappo Degli esperti Raffaello Rilancia La lista Dei dipinti Inammovibili Storia e polemiche Dei grandi gioielli Della galleria Dal primo elenco Dell'ex direttore Natali Alle scelte Di Ike Schmidt Opere che rappresentano L'essenza Di un museo L'articolo L'articolo è a firma Di Gaia Rau Argomento ripreso Anche sulla nazione Nelle pagine nazionali Raffaello Guerra Agli uffizi Schmidt Troppa politica Il direttore del museo Sul quadro inviato a Roma E le dimissioni del comitato Da loro Battaglie ideologiche Non ci mancheranno La replica Poco elegante Dall'arte Al Parlamento Interrogazione Del Movimento 5 Stelle Al ministro Parole inopportune Offensive Sostegno Da PD E IV L'articolo E a firma di Olga Mugnaini Il Corriere Fiorentino Parla invece Di cinema Con Il maestro Del cinema Dipinto Alla compagnia Il regista toscano Walter Bencini Racconta il documentario Dedicato a Renato Casaro Suoi I manifesti Per i film dei grandi Dal leone A Tarantino Una storia di meraviglie Con un po' Di nostalgia Ribalta nazionale Invece Per la mostra Di Tomas Saraseno Il tempo A Firenze Il futuro dell'arte Nell'area Di Palazzo Strozzi Una mostra Celebra A Tomas Saraseno I suoi giardini Volanti La notizia Ripresa anche Da Famiglia Cristiana Mostre Il punto di vista Della natura A Palazzo Strozzi Di Firenze Tomas Saraseno È uno dei più originali E visionari artisti Contemporanei Chiudiamo questa rassegna Stampa settimanale Dedicata alla cultura Con gli argomenti Trattati dai quotidiani Nell'edizione di oggi Venerdì 28 febbraio Si intrecciano Cultura e cronaca Sul Corriere Fiorentino Cultura e eventi Firenze Musei civici gratis Firenze apre gratis I suoi musei Per tre giorni Dal 6 all'8 marzo Per dare un segnale Di fiducia Spiega Maso Sacchi Assessore alla cultura Di Palazzo Vecchio Ci sarà l'apertura Gratuita dei musei civici Da Palazzo Vecchio Alla Cappella Brancacci Un'occasione Di ritrovare Nei nostri musei L'entusiasmo Dell'essere comunità Contro la paura Poi due Ribalte nazionali Ancora una volta Il Fatto Quotidiano Parla del caso Che si è venuto a creare Nei confronti Del celebre scultore Pistoiese Marino Marini Nessuno tocchi Marino Pistoia e Firenze In lotta L'artista toscano Il suo museo Sta per chiudere Il patrimonio della fondazione Potrebbe finire altrove Ovvero da Pistoia Appunto a Firenze È solo campanilismo Questo è quello Che si chiede Il Fatto Quotidiano Nell'articolo Di Tommaso Montanari E poi la Repubblica Nella sua pagina Dedicata Il venerdì all'arte A Firenze Gli specchi Ragni di Saraseno Dalle sfere fluttuanti Alle ragnatele L'artista Ha creato Opere sensazionali E questo era L'ultimo argomento Trattato Da questa lunga Rassegna stampa Vi auguro Una buona serata Grazie a tutti Grazie a tutti